Antonio Carnovale, consigliere del comitato, la signora Concetta, canale, socio del comitato e la signora Rita Lopresti, socio del comitato per la particolare dedizione con cui hanno svolto gli incarichi loro affidati e per i quali hanno meritato il riconoscimento. Cara Giovanna, ricordo ancora quando l'ambasciatore Bottai consegnò personalmente durante un viaggio a Roma con i socio del comitato di Gold Coast, il diploma di benemerenza con medaglia d'argento. In quell'occasione, ti disse che il prossimo lo avresti ricevuto dieci anni dopo. Come puoi vedere, la sua promessa è stata mantenuta con amicizia e affetto, suo segretario generale dottor Alessandro Masi. Grazie.